Adesso è il ruolo, no? Sì. Ecco, poi il tuo progetto. Non è che quando io tolgo la forza diventi deboli, ma ti faccio sempre capire. Cioè ti faccio risarmi di essere deboli. Io prometto che uno reagisce giustamente. Senti adesso. Adesso scompaio. Per il senso che il tuo sistema nervoso incanda il tuo sistema nervoso. Perché se tu senti un impulso e il tuo sistema nervoso reagisci. Se non senti niente non reagisci. Se non fai tempo di intervenire il tuo progetto. Perché te lo distrattas. Se sono forte. E' semplice, no? Tutto un lato che... Se io sono forte, tu non hai nemmeno questo progetto. Ma in realtà io sono dietro di te. Qui non c'è dietro. Sto già passando dietro. Grazie. 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 Prese son. E' semplice. Albersi. In questa maniera è difficile Really controllare. Questo tempo di lavoro mi appunto aan van tardi. Se invece lavoro sulla forza, non posso essere forte. Chiunque di noi è in grado di usare la forza. Non c'è problema. Chi più chi meno, siamo tutti in grado di usare la forza. Il problema invece è che non senti il braccio duro. Di scompare, come si sogni essere.